Finale del torneo olimpico di qualificazione olimpica da Madrid si comincia con la spada femminile, la regola è molto semplice, chi vince questo assalto, chi vince questa finale vola a Tokyo per chi perde invece l'amarezza di un secondo posto che di norma farebbe felice chiunque, un secondo posto in una gara ma qui fa solo arrabbiare e regala tanta amarezza a contendersi questo posto per la gara individuale di Tokyo, sono la tedesca Alexandra Andolo e l'ucraina Olena Krivitska le favorite della vigilia, le più forti in Lizza hanno rispettato sin qui il pronostico, adesso però per forza soltanto una delle due potrà a luglio imbarcarsi sul volo che le porta in Giappone per la gara che si svolgerà il 24 luglio, sarà la gara che proprio aprirà il programma della scherma ai giochi olimpici di Tokyo 2020 più 1 assieme alla sciabola maschile, qui qualche highlight dei precedenti assalti, in particolare della semifinale dell'Andolo che dicevamo sfiderà la Ucraina, Ucraina, Olena Krivitska, Ucraina che è rimasta fuori dalla qualifica squadra della Krivitska, poi ha subito un'ulteriore beffa nel senso che nella corsa alla qualifica individuale per il posto europeo è arrivata a pari punti con la francese Coraline Vitalis, la Vitalis però si è fatta forza dell'oro vinto agli europei di Düsseldorf nel 2019 e quindi si è qualificata a lei e ha costretto la Krivitska ai supplementari e vedremo se riuscirà l'Ucraina medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest sempre nel 2019 nella gara vinta da Nathalie Mollhausen a prendersi questo posto, gara di spada femminile che clamorosamente sarà orfana delle ultime due campionesse olimpiche, perché Jana Scemiakina non si è qualificata con la squadra, appunto con l'Ucraina e qui a contendersi il posto c'è la Krivitska mentre Emese e Sass ha provato il ritorno dopo la maternità per provare a qualificarsi questa gara l'Ungheria ha scelto di mandare a Madrid Anna Kun e quindi insomma non ci saranno le ultime due regine di questa gara e adesso vedremo però è tempo di tuffarsi Sì, nella attualità, nella gara, qui vedete Alexandra Andolo, atleta tedesca, sì ma di origine keniana e polacca, papà keniano, mamma polacca, nata a Bayreuth, la città che gli amici appassionati di musica classica immediatamente andranno ad associare alla figura di Wagner e qui invece c'è Olena Krivitska, atleta ucraina, che si sta preparando a salire in pedana, o meglio, è già salita in pedana, si sta preparando per le operazioni preliminari di controllo del funzionamento delle spade, via la mascherina, sperando che poi queste scene possano al più presto appartenere al passato, si possa tornare a vedere delle gare senza mascherine, soprattutto senza limitazioni di vario tipo per i protocolli, si comincia, eccole qui, pronti a voi, Andolo alla vostra sinistra, Krivitska alla vostra destra, facilmente riconoscibile entrambe le atlete, anche per le scelte cromatiche della maschera, con la bandiera nazionale per la Andolo, invece completo Fucsia per Krivitska, fase di studio in questi primi 30 secondi, ricordiamo che serve mettere almeno una botta entro il primo minuto, altrimenti scatta la regola della non combattività, con il doppio cartellino giallo, in questo caso. 10 secondi, vediamo se una delle due riuscirà a mettere la stoccata, e infatti arriva dopo un minuto senza stoccate, arriva l'alt e adesso dovrebbero comparire i cartellini. Regola della non combattività introdotta da qualche stagione a questa parte, per cercare di ridurre al minimo il tatticismo esasperato che alcuni assalti di spada avevano preso, soprattutto anche nelle frazioni a squadre, nelle gare a squadre con assalti, intanto arriva il colpo doppio, dicevo, in alcune gare a squadre, in cui si arrivava alla nona e decisiva frazione su punteggi quasi più calcistici che schermistici. E adesso l'obbligo di tirare, intanto uno a uno siamo arrivati a metà della prima frazione. Naturalmente c'è grande equilibrio in pedana, qui Landon aveva provato il colpo al piede, se è invece presa l'arresto da parte della Krivitska. Dicevo, grande equilibrio nei momenti di studio in pedana, la posta in paglio del resto è molto elevata. Ancora, assegno Olena Krivitska, 3-1 il punteggio. Ultimo minuto scarso di questa prima frazione. E arriva la botta di Krivitska, ancora, ho confuso le luci. 4-1 per la spadista ucraina. Che prova un accenno di fuga. Anche se è ancora molto lunga lunga la strada per il traguardo. Questa volta è effettivamente Landolo a toccare 20 secondi, 22 secondi. Ancora, bella questa stoccata della Krivitska. Chirurgica, non si è neanche quasi accorta Landolo, probabilmente si è accorta dalla luce. 6-2 ancora, Olena Krivitska che prova a sfruttare il momento positivo. Invece per Landolo arriva una provvidenziale sosta per riordinare le idee. A colloquio, le due atlete con i rispettivi coach. Anche l'occasione per un attimo dissetarsi. Ho visto qui l'angolo dell'Ucraina. E qui invece siamo con Alexandre Landolo. Che probabilmente dovrà modificare qualcosa nella sua condotta dell'assalto. Se non vuole lasciare scappare via l'avversaria. Fasi molto importanti queste qui di consulto con i rispettivi tecnici. Perché appunto, nella loro postazione, possono vedere meglio quello che va e quello che non va. Adesso anche il 5 e il pugnetto per dare la carica alla sua atleta. E quindi, ci si rimette in guardia. Inizia la seconda manche. 6-2 per Olena Krivitska. Che di fatto sembra voler lasciare l'iniziativa all'avversaria. Adesso trova anche un buon colpo doppio. Ancora colpo doppio. Un po' telefonata forse questa flash dell'Andolo. Molto attenta all'Ucraina e disinnesca. Altra flash. Forse ancora più telefonata di prima. 9-4 più 5. E anche il colpo doppio per Alexander Andolo. che qui fa... Ah, sì, la stringa. Si riparte sul risultato di 9-4. Match che sembra non avere comunque variato il proprio copione. Qui c'è un tentativo da parte dell'Andolo. che non viene premiato da successo. Adesso tocca, si accende solo la luce rossa. 9-6. Piccolo riavvicinamento da parte dell'Andolo. che comunque deve ancora inseguire. Mentre siamo entrati nella seconda metà della seconda frazione. Altro colpo doppio. Altro mattoncino. messo lì. Dalla Krivitska. Tanto l'arbitro ancora richiama le due atleti a spostarsi più sul centro pedana. ai bordi, sulla fascia, quasi. Si può usare una metafora calcistica. Ancora colpo doppio. ultimi 45 secondi anche di questa seconda frazione. Ancora abbastanza equilibrio in pedana. maggior ragione adesso che l'Andolo trova un'altra stoccata. Quella del 11-9. 12-10. Colpo doppio. 13 secondi alla fine. Vediamo se facilmente andranno alla terza frazione. Ultimi 3-2. Sì, sembra proprio questa l'intenzione delle due atlete. e quindi ancora un minuto per consultarsi con i rispettivi tecnici. Per poi affrontare l'ultimissima parte di match. Manca poco al traguardo. Per la Krivitska. Adesso deve mantenere la concentrazione massima. è vicina al traguardo. L'Ucraina, la tedesca è appiccicata. Solo due stoccate. Quindi anche lei è ancora in gioco. tanto anche qualche replay di quanto accaduto sin qui. Con le varie stoccate che hanno portato poi alla situazione attuale di 12-10 a favore di Olena Krivitska. e si può ricominciare. Sono pronte le atlete. Scalta in questo momento la terza e ultima frazione di questa finale del torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 ripetiamo la regola semplice semplice chi vince va a Tokyo tanto l'Andolo si è rifatta sotto 12-11 una sola stoccata comincia a far sentire il proprio fiato sul collo all'avversaria Alexandra Andolo e adesso è qui il momento clou ovviamente comincerà a diventare pesante la spalla della Krivitska che però trova una grande botta al piede esce nel modo migliore da questo momento che forse poteva essere di difficoltà lei esce con una stoccata di pregevolissima fattura che di contro per l'Andolo è anche un po' dura da digerire vediamo 13-11 in due minuti ancora tutto il tempo di questo mondo l'Andolo non deve neanche troppo forzare però qui trova un doppio cruciale la Krivitska tiene lì l'avversaria ma si avvicina a meno uno dall'Olimpiade qui va a vuoto l'Andolo si era un po' buttata forse la tedesca gioca col cronometro ha tantissime carte nel suo mazzo la Krivitska deve stare solo attenta a non precipitare le cose più di gestione più che altro ancora un tentativo di botta al piede e poi arriva la stoccata numero 15 e la liberazione finalmente per Olena Krivitska che a un certo punto aveva visto riavvicinarsi la tedesca e far sudare ancora questo benedetto biglietto per Tokyo che finalmente arriva sfinita Olena Krivitska davvero immaginiamo la tensione che ha compiato per tutta la giornata le protagoniste di questa gara e adesso finalmente può organizzarsi per la trasferta in Giappone invece delusione per Alexander Andolo che manca la qualificazione ai giochi di Tokyo